Notte prima degli esami per 2875 studenti aretini alle prese con la prima prova degli esami di maturità. In tutta la provincia sono 77 le commissioni che si occuperanno delle varie fasi che porteranno, si spera per tutti, alla promozione finale. Intanto si inizia con la prima prova, tre le tipologie di tracce predisposte dal MIUR per questo esame 2019. Nella prima sono possibili due analisi del testo, un brano di prosa o una poesia di un autore italiano vissuto del periodo dall'Unità d'Italia ad oggi. La tipologia B riguarda un testo argomentativo che è la novità di questa edizione degli esami di maturità. All'interno di questa prova si può scegliere tra tre tracce. Gli ambiti possono essere vari, storico, filosofico, letterario, artistico, sociale, tecnologico, scientifico ed economico. La terza prova è il tema di attualità, chiamato tema d'ordine generale. In questo caso saranno fornite due tracce con argomenti che dovrebbero essere vicini al sentire degli studenti. Come sempre la seconda prova invece sarà diversa in base all'indirizzo di studio. Una seconda prova che potrà essere multidisciplinare, quindi con tutte le materie caratterizzanti dall'indirizzo scelto. Una volta terminati gli scritti sarà il momento della prova orale davanti sia a commissari interni che esterni. Al posto della vecchia tesina con cui si poteva aprire l'esame di maturità ci sarà invece una relazione sull'esperienza di alternanza scuola-lavoro. L'orale partirà su un argomento che è stato scelto dalla commissione e sorteggiato dal candidato il giorno del colloquio d'esame.